Amici, buongiorno a tutti. Con questo video proverò a dimostrarvi che il risparmio economico grazie alla legge sul taglio dei parlamentari è la più grande falsità che io abbia mai sentito negli ultimi anni. Però non voglio che mi crediate sulla parola, ma voglio fare un ragionamento insieme a voi perché so che molti che sostengono questa legge sono in buona fede. Allora, ragioniamo insieme. Noi ogni anno paghiamo tra i 60.000 e gli 80.000 milioni di euro in interessi sul debito pubblico. Ora, da cosa dipende una forbice così ampia addirittura di 20.000 milioni di euro all'anno? Quindi tra gli anni che paghiamo 60 miliardi di interessi sul debito pubblico agli anni invece in cui ne paghiamo 80 miliardi. Questa forbice è dovuta a quella che si chiama incertezza sui mercati ed è la cosa più costosa che uno Stato possa mai pagare all'interno dell'eurozona. Ora, rimandare il voto come qualcuno ci sta chiedendo per portare subito a termine la riforma del taglio dei parlamentari ci farebbe risparmiare circa 500 milioni di euro di stipendi in cinque anni. Questo è vero, ma saremo però costretti a rimandare il voto, ossia a convivere per almeno un anno con una forte incertezza sui mercati. E quella incertezza ci costerebbe miliardi di euro, ossia migliaia di milioni di euro. Quindi qualcuno potrebbe obiettare a Modeo, ma che fai? Ti sottometti anche tu alle logiche dei mercati e ci chiedi di non risparmiare 450 milioni di stipendi ai parlamentari per non bruciarne migliaia di milioni a causa dell'incertezza sui mercati. Certo, perché non sono io che sono alle dipendenze del mercato, ma sono i vostri leader, i nostri politici che hanno scelto di rimanere all'interno di questa moneta e quindi sanno benissimo che dovranno sottostare alle logiche dei mercati. Perché se dici che sei disposto a tatuarti, che non vuoi uscire dall'euro, vuol dire che hai scelto di piegarti e di dipendere dal parere dei mercati. Quindi dovresti assumerti la responsabilità e avere la consapevolezza che rimandare il voto dopo una crisi di governo vuol dire che i mercati ti costringeranno a bruciare miliardi di euro per pagare proprio quella incertezza. Per questo vi torno a ribadire che chi vi racconta che bisogna rimandare il voto per risparmiare meno di 500 milioni di euro in cinque anni grazie al taglio dei parlamentari vi sta truffando, vi sta costringendo a bruciare miliardi di euro per una esigenza personale. provate a chiedere a qualche vostro amico o a chiunque ne capisca un minimo delle logiche dei mercati e vi dirà che nulla si paga di più dell'incertezza e che nulla rende più incerta la situazione sui mercati che rimandare il voto dopo una crisi di governo. certo un ipotetico governo tecnico guidato da Mario Draghi farebbe abbassare lo spread quindi ridurrebbe lo spreco di cui abbiamo parlato come accadde con Mario Monti all'inizio della sua legislatura ma nel frattempo Draghi firmerebbe tutta una serie di trattati una volta al governo per vincolare l'Italia all'austerity così come fece Mario Monti quando firmò il meccanismo europeo di stabilità o quando rimborsò i derivati alle banche della finanza speculativa. In pratica drenerebbero comunque miliardi di euro dal popolo alla finanza speculativa della quale sarebbe ovviamente chiamato a fare gli interessi. Quindi siete ancora convinti che vada rimandato il voto per risparmiare 450 milioni in cinque anni se quella incertezza sui mercati la pagheremo a caro prezzo con migliaia di milioni di euro bruciati sui mercati o in alternativa con un governo tecnico che firmerebbe tutta una serie di nuove leggi e trattati per vincolare il paese per sempre all'austerity. La verità è una sola che bisogna andare subito al voto e chi vi dice il contrario vi sta truffando. Un saluto a tutti e grazie sempre.